Padre Graziano tornerà in aula tra due settimane. Il prossimo 14 dicembre infatti prenderà avvio il processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, carico del frate congolese. Dopo la condanna in primo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparse il 1 maggio 2014 da Caraffello. Noi abbiamo già indicato quelle che sono le prove che dovrebbero essere effettuate e che non ci è stato consentito poter celebrare nella fase di primo grado. Ma noi abbiamo anche sollecitato una preliminare e cioè noi riteniamo che anche alla luce dello stato attuale delle attività investigative probatorie acquisite non sussistano quegli elementi certi che consentano una condanna. Quindi secondo noi la Corte d'Assise d'Appello di Firenze dovrà giudicare e assolvere Padre Graziano a prescindere dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se questo passaggio può essere un po' ostico alla Corte d'Assise d'Appello, che benvenga anche la rinnovazione delle attività di indagine come noi abbiamo prospettato e richiesto. Padre Graziano, che attualmente si trova agli arresti domiciliari nel Convento Romano dell'Ordine Premostratense, ha fatto istanza per potersi recare al processo da solo. Ad oggi ancora non è arrivata nessuna comunicazione, se non dovesse arrivare ovviamente non sarà presente.